Filippo Caracciolo e Deborah Ciliento tirano la volata del Partito Democratico nella circoscrizione della BAT. Quasi mille persone hanno assistito a Barletta all'incontro pubblico di presentazione dei due candidati al Consiglio regionale a cui ha preso parte anche Antonio De Caro. Il sindaco di Bari non ha dubbi, il loro lavoro su questo territorio verrà premiato con la doppia elezione. La Puglia non tornerà indietro di vent'anni. Noi siamo convinti che la regione non tornerà indietro perché i pugliesi non vogliono tornare a vent'anni fa. Questa regione è cambiata, è migliorata, viviamo in una terra conosciuta in tutto il mondo. Vent'anni fa nessuno sapeva dove fosse la Puglia e questo lo dobbiamo a tante donne, a tanti uomini che in questi anni hanno rappresentato una nuova classe dirigente come Filippo Caracciolo che conosco da tanto tempo e col quale ho lavorato quando stavamo insieme in regione. L'introduzione della doppia preferenza, dicono a Barletta, permetterà al singolo elettore di premiare col proprio voto sia Caracciolo che Ciliento. Il consigliere regionale barlettano ha ricordato i risultati raggiunti per questo territorio grazie all'aiuto di Michele Emiliano, dagli interventi propedeutici al risanamento degli scarichi della litorania di Ponente, finanziati con 3 milioni e mezzo di euro, alla messa in sicurezza del polivalente Fermi Nervi Cassandro. La testimonianza e la vicinanza di Antonio De Caro mi rende orgoglioso anche perché sono orgoglioso di essere suo amico. Abbiamo iniziato insieme questa esperienza in regione Puglia con il buon governo di Nichi Vendola. Proseguiamo con Michele Emiliano, diamo certezza ai pugliesi di una Puglia migliore che non torna indietro con la riconferma di Michele Emiliano. Grazie alla mia riconferma questo territorio avrà un rappresentante concreto con esperienza giusta per portare le esigenze di questo territorio, le istanze di questo territorio all'attenzione della regione Puglia.